che cos'è il genio e fantasia intuizione decisione e velocità d'esecuzione bello ciucciu bello vieni vieni ciucciu così aspetta ciucciu bello 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 ciucciu vieni vieni come vieni 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 bravo cos'è dov'è il mio vicere ? signora ! signora venga presto ! ora il progetto ! il mio vecchio mi viene portato a porto il progetto ! che è successo ? mario fuori ! cos'è ? guardi ! guarda ! mario guarda ! ma è mostuoso ! povero bugetto ! e continua a farne ! non si ferma più ! corri mario ! chiama il dottore ! corri ! corri ! non si può immaginare quanto sia prezioso un amico così dico come il necchi ! specialmente nei momenti difficili quando ci capita da renarci un po' direi di loro ! Grazie a tutti.